Sai già che l'Inghilterra nel 1700 era una potenza economica senza rivali. Tra i molti fattori che avevano contribuito al suo successo c'erano senza dubbio le colonie, quelle sul territorio americano. Come mai furono così determinanti? Ma per dirla in modo molto semplice funzionava più o meno così. Le colonie americane vendevano a prezzi molto bassi le loro materie prime all'Inghilterra. L'Inghilterra poi le lavorava, le trasformava e le rivendeva a prezzi molto più alti guadagnando moltissimo. La colonizzazione dell'America settentrionale era cominciata ai tempi di Elisabetta I con un territorio chiamato proprio in suo onore Virginia. Poi nel giro di un secolo le colonie erano diventate tredici lungo la costa atlantica. Ma chi erano i coloni? C'erano i puritani provenienti per la maggior parte dall'Inghilterra che stavano fuggendo dalle persecuzioni degli Stuart. Ricordi gli Stuart erano quelli che erano venuti dopo il periodo di Elisabetta e che avevano cercato di imporre nuovamente la religione cattolica. Alcuni puritani avevano già messo piede sulle coste più settentrionali, provenivano dall'Olanda. Entrambi avevano il desiderio di fondare delle nuove comunità. I primissimi ad arrivare in America erano stati i padri pellegrini agli inizi del 1600. Poi c'erano i giovani cadetti delle famiglie nobili, quelli che se ben ti ricordi non ereditavano nulla e quindi partivano per le coste americane pieni di voglia di avventura e di poter realizzare quei guadagni che in patria non avrebbero mai potuto ottenere. C'era qualcuno che scappava dall'Inghilterra per scappare dalla giustizia e poi c'erano i più disperati di tutti, quelli che non potevano neanche pagarsi il viaggio e che quindi accettavano la cosiddetta schiavitù temporanea. Cioè in pratica per quattro anni ricevevano un campo da coltivare e in quei quattro anni il frutto del loro lavoro, il loro guadagno, serviva per pagare il debito contratto per affrontare il viaggio. Insomma quella striscia di territorio era abitata da circa 3 milioni di europei ai quali dobbiamo poi aggiungere circa 600.000 schiavi neri. Qual era la situazione in generale nel continente americano? Beh intanto diciamo subito che di americano come puoi vedere da questa cartina c'era ben poco. Allora nel 1750 questa era un po' la situazione c'erano le colonie portoghesi, le colonie spagnole, le colonie russe e poi c'erano le colonie francesi e inglesi. Il resto del territorio era abitato dai nativi americani, i cosiddetti indiani o pelli rossa di cui ci occuperemo nella lezione prossima. Veniamo ora alle nostre 13 colonie. Erano abitate da persone, l'abbiamo visto prima, molto diverse che si erano un po' diciamo raggruppate in tre zone. A nord c'era il New England, qui erano approdati e si erano stabiliti i puritani che vivevano prevalentemente di agricoltura, di commercio marittimo e di cantieri navali. Nel centro c'erano invece colonie abitate da persone che provenivano un po' da tutta Europa e che vivevano prevalentemente di attività commerciali. E poi c'erano le colonie invece più meridionali dove il clima era anche molto più caldo, che vivevano di agricoltura, soprattutto agricoltura di piantagione nei grandi latifondi, e impiegavano moltissima manodopera nera. I latifondi sono dei campi molto vasti che venivano coltivati con i prodotti che crescevano bene a quella temperatura, quindi il tè, il cotone, il tabacco, il caffè. Queste persone, pur molto diverse tra loro, erano però accomunate dal fatto che parlavano tutte la stessa lingua, avevano tutte una origine europea di razza bianca e, anche se non erano inglesi tutti quanti, si riconoscevano però nelle leggi e nelle tradizioni britanniche. Più passava il tempo però, più si sviluppavano queste colonie, più aumentavano i motivi di scontento. Perché? Ma i coloni erano obbligati a commerciare solo ed esclusivamente con l'Inghilterra. Non potevano vendere i loro prodotti a chi volevano. Non potevano lavorare le materie prime. Le dovevano vendere all'Inghilterra, la quale poi le avrebbe lavorate e rivendute guadagnandoci moltissimo. Non solo, ma poi i coloni dovevano comprare le materie lavorate dalla stessa Inghilterra. Potevano costruire le navi, ma le dovevano vendere all'Inghilterra perché gli inglesi non si fidavano di lasciare le mani, le navi in mano ai coloni. Dovevano usare la sterlina perché non potevano coniare una loro moneta. In tutto questo l'unico vantaggio era che non pagavano le tasse. Nel 1764 però accade un fatto che dà inizio a una inarrestabile serie di eventi. Allora cerchiamo di capire. L'Inghilterra aveva appena terminato e vinto una guerra durata sette anni contro la Francia e la Spagna. Grazie a questa vittoria aveva guadagnato numerosi territori. Il Quebec che oggi è in Canada, il bacino del Mississippi, alcune isole caraibiche, il Senegal, la Florida e alcuni territori vicino all'India che sono il primo nucleo di quello che sarà poi la colonia indiana. Vittoria, ma noi sappiamo che una guerra comunque costa e al termine della guerra le casse inglesi erano vuote. Come fare per recuperare del denaro? Beh, col solito sistema di sempre, le tasse. Gli abitanti dell'Inghilterra però avevano già pagato tasse in abbondanza proprio per supportare questa guerra ed ecco che allora i governanti inglesi decidono che è venuto il momento di far pagare le tasse anche ai coloni e precisamente decidono di tassare alcuni prodotti più popolari, il tè, i contratti di compravendita e i giornali. Questa decisione scatenò la rabbia dei coloni. Abbiamo già visto prima che motivi di malcontento ce n'erano parecchi e soprattutto la tassa sulla stampa perché i coloni americani vissero questa tassa come un attentato alla loro libertà. Fecero un ragionamento molto semplice. Per essere legittime le tasse dovevano essere approvate dal Parlamento. Ti ricordi il Bill of Rights? Ma nel Parlamento inglese non c'era nessun rappresentante dei coloni perché i coloni non potevano votare, non avevano il diritto di eleggere dei propri rappresentanti. Bene, di conseguenza se le tasse non sono state approvate da politici che mi rappresentano, io non ho nessun dovere di pagarle. Lo slogan che nacque a quel tempo fu no taxation without representation, quindi niente tasse senza rappresentanti in Parlamento. Il ragionamento era molto semplice ma la questione in realtà molto difficile perché l'Inghilterra non voleva cedere di un impasso. Per sbloccare la situazione, oltre alle proteste che furono in certi casi anche violente, ci volle il Boston Tea Party. Vediamo di cosa si tratta. Il Boston Tea Party, 16 dicembre 1773. Il Boston Tea Party è stato un atto di protesta contro la tassazione inglese. Nel 1773 il Parlamento inglese fece passare il Tea Act che dava alla Compagnia delle Indie il monopolio sul commercio del tè in America. I coloni erano furiosi. Ci furono delle proteste in tutte le colonie per interferire nel commercio americano inneggiando il motto no tassazione senza rappresentazione. Questo perché le colonie americane avrebbero voluto essere tassate da rappresentanti americani e non dal Parlamento Britannico. Il 16 dicembre 1773 i Sons of Liberty, ossia i Figli della Libertà, guidati da Samuel Adams, pensarono a un piano contro il Tea Act. Travestiti da indiani saltarono a bordo dei vascelli britannici ancorati nel porto di Boston e gettarono in mare il contenuto di tè per un equivalente di un milione di dollari del giorno d'oggi. L'avvenimento verrà ricordato come il Boston Tea Party. Il Parlamento inglese reagì varando altre leggi punitive, ma questo rafforzò ulteriormente la resistenza alla corona inglese e condusse le due parti sul piede di guerra.